Carlo Chiame è il nuovo assessore provinciale al lavoro, assessore lei ha già un'esperienza nella precedente giunta guidata dal Presidente Saita come assessore al bilancio, assume questo incarico in un momento difficile per il lavoro, per l'occupazione nella nostra provincia e subito un provvedimento concreto da parte della giunta. Sì, oggi abbiamo avuto la prima vera giunta politica di questa amministrazione, uno dei primi provvedimenti che abbiamo approvato è la delibera sui cantieri di lavoro, quindi c'è un finanziamento di 2 milioni di euro per i cantieri di lavoro che verranno realizzati da 37 comuni del territorio della provincia di Torino e subito una boccata di ossigeno per quelle persone che sono senza lavoro e senza tutela, che hanno quindi la possibilità di avere un certo reddito. Certamente il tema del lavoro sarà uno dei principali in questo momento per via della crisi, noi crediamo che i centri per l'impiego della provincia di Torino possano essere al centro di tutte le misure, sia quelle nazionali sia quelle locali della regione, per dare una chance a chi è senza lavoro. Sono molte le vertenze aziendali su cui la provincia negli anni scorsi ha preso posizione, intervenuta, ha partecipato a dei tavoli di lavoro, di contrattazione, di concertazione, avverrà questo anche nei prossimi mesi? Certo, sono purtroppo per via della crisi numerose in questo momento le vertenze aperte, noi partecipiamo ai tavoli insieme alle altre istituzioni, i comuni e la regione e mettiamo a disposizione le nostre competenze, il nostro know-how, soprattutto per quelle attività di ricollocazione delle persone che perdono il lavoro. In generale comunque che impostazione darà la giunta Saita Bis alla sua politica del lavoro? Beh, diciamo l'elemento fondamentale anche di distinzione rispetto al mandato precedente è che vengono messe insieme le deleghe di formazione e di lavoro, quindi sempre più il tema sarà quello per le persone che vanno in mobilità o che sono senza lavoro di dargli prima uno strumento formativo che ne elevi la competenza in modo che abbiano più occasione per trovare un nuovo lavoro.